Il primo straccio dei lavori per la realizzazione dello smart tunnel intelligente all'interno del quale passeranno acqua, elettricità e fibra ottica procede verso la conclusione. Il presidente della stazione appaltante Gran Sasso Acqua, Fabrizio Eraldi, fissa il termine ultimo delle opere nella primavera del 2020. La maxi opera da 40 milioni di euro circa, scelta persino dai giapponesi per sperimentare la prima fibra ottica superveloce al mondo, non cessa però di suscitare polemiche. L'opera di scavo, quella un po' più impattante, dovrebbe ultimare entro fine dell'anno, dopodiché i restanti mesi che interesseranno almeno fino a primavera prossima avranno per oggetto l'inserimento dell'infrastruttura nel tunnel, quindi non li vedremo più se non all'interno dei tunnel. Nel mirino finisce il secondo stralcio, suddiviso in cinque lotti, per un totale di ulteriori 48 milioni di euro, per il quale non è dato sapere quando partiranno i lavori, nonostante la Gran Sasso Acqua abbia segnato gli appalti nel 2016. C'è una valutazione che si deve fare soprattutto dal punto di vista amministrativo tecnico. Noi le date non le abbiamo date, scusate il gioco di parole, per la semplice ragione che memory, avendo fatto tesoro dell'esperienza del primo stralcio, è ovvio che vogliamo preservare i tempi e soprattutto vogliamo evitare che nel corso dell'esecuzione ci siano delle problematiche tipo tecnico-amministrativo. Tra gli ostacoli che lo smart tunnel ha incontrato in questi due anni c'è quello dei ritrovamenti archeologici che hanno riconsegnato via via parti storiche di città di cui non si aveva traccia, ma che hanno inevitabilmente rallentato i lavori con grandi disagi per i residenti e i commercianti. Quanto all'aggregato del consorzio Filomusi Guelfi, nel corso stretto dell'Aquila, la cui ricostruzione è ferma da due anni perché danneggiato, secondo i residenti, dai lavori dei sottoservizi, per eraldi le cause non riguarderebbe errori da parte delle imprese esecutrici. Lì è intervenuta una consulenza tecnica preventiva che è una fase ante causa per stabilire quali erano le problematiche e soprattutto le responsabilità. Per quanto ci riguarda è una problematica di tipo civilistico, di tipo contrattuale perché evidentemente sono state individuate delle concause che non attengono ai presidi di sicurezza e comunque a qualche errore di esecuzione, ma è una concausa perché una perdita di acqua a monte è una questione che si risolverà, immagino, a breve. Grazie Grazie